È lunedì, carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, siamo qui con il nostro programma realizzato nella struttura di Vismara Physioradi Medical Center. Questa sera abbiamo un ospite, una dottoressa che già abbiamo conosciuto anche lei l'anno scorso ed è una dottoressa che tratta i bambini. Si tratta di Giada Salvatori, è ortopedica ma con una predisposizione, una predilezione proprio per curare i nostri piccoli bambini. L'abbiamo detto proprio veramente, il futuro del mondo. Ci concentreremo su un argomento molto interessante come quello dei piedi dei bambini. Già, perché quante volte noi prima ci divertiamo quando i bambini magari sono appena nati con questi piedini meravigliosi che vediamo tutti cicciottelli, tutti belli così da accarezzare, ma quante volte poi nel corso del tempo invece proprio questi piedi possono portare a dei problemi, problemi che peraltro si protrarrebbero per tutta la vita della persona. Ecco quindi come l'intervento nel momento giusto con un medico, con uno specialista in grado di capire se tutto va bene e effettivamente come procedere nella crescita del bambino diventa assolutamente determinante. Di tutto questo ci parlerà la dottoressa Giada Salvatori. La dottoressa Giada Salvatori è qui con noi nello studio di Fisioradi. Buonasera. Buonasera. La dottoressa Giada Salvatori è ortopedica ma un'ortopedia un po' diversa dalle altre perché tratta i bambini, l'abbiamo già conosciuta l'anno scorso, ortopedia pediatrica che peraltro è una materia e una specializzazione molto affascinante dottoressa perché effettivamente ci dà la possibilità di vedere dall'inizio e magari anche correggere. Assolutamente sì. È una specialità veramente di nicchia oserei dire perché sono pochi gli ortopedici in Italia che si occupano del bambino ed è estremamente interessante per noi ortopedici perché ci permette di trattare la patologia dal neonato fino alla fine dell'età dello sviluppo e in questo modo intervenendo precocemente si ha la possibilità di andare a correggere molto spesso anche con trattamenti mini invasivi delle condizioni che in età adulta sarebbero estremamente invalidanti. Abbiamo parlato l'anno scorso di diversi aspetti della patologia ortopedica dei bambini, quest'anno ci vogliamo concentrare un pochino sul piede perché effettivamente il camminare, il muoversi, il passare dal gattonamento, dal gattonaggio come lo vogliamo chiamare, alla posizione retta è uno dei momenti più importanti nello sviluppo di ognuno di noi. Assolutamente. Sono molte le condizioni che portano poi un genitore a ricorrere all'ortopedico pediatrico per un consulto, per un dubbio, per qualche chiarimento insomma. Esistono una serie di patologie o comunque di dismorfismi che possono essere presenti dalla nascita ed è importante distinguere condizioni che possono essere ritenute parafisiologiche da patologie vere e proprie. Faccio riferimento per esempio al piede torto congenito che è la seconda patologia ortopedica pediatrica più frequente ed è una deformità complessa tridimensionale del piede. È importante diagnosticarla precocemente in modo tale da avere una corretta educazione da parte dei genitori appunto per riuscire ad affrontare poi alla nascita questa situazione ma soprattutto anche per riuscire innanzitutto a distinguere un vero piede torto da uno posizionale. Un piede torto posizionale gode di trattamenti manipolativi senza dover ricorrere a trattamenti invasivi o comunque impegnativi come possono essere i trattamenti riservati ai piedi torti veri, cioè quelli rigidi, quelli che toccandoli non possono essere appunto corretti manualmente. Questi richiedono poi un trattamento invece con gessi seriati e con eventuali piccole procedure chirurgiche. Il trattamento di elezione adesso è rappresentato dal trattamento Ponsetti. E poi c'è anche un'altra patologia, una sindrome, non so come vogliamo chiamarla, una condizione che è quella del piede piatto. Ma cosa significa quando si dice un bambino ha i piedi piatti? In realtà è una domanda molto interessante perché esistono numerosissimi lavori in letteratura che vedono già difficoltà nel definire veramente il piede piatto, nel senso che alcuni fanno riferimento all'altezza della volta a plantare e altri invece fanno riferimento a quanto tempo la parte interna del piede risiede nel suolo e quindi già si parte riuscendo ad avere difficoltà iniziali proprio nella definizione vera e propria. Perché noi facciamo sempre molto riferimento al fatto che è come andare a chiedere un caffè in Italia e nelle altre parti del mondo. Negli Stati Uniti uno chiede un caffè, arriva la tazza del caffè americano e basta, al massimo con un po' di latte. L'italiano medio che va a chiedere un caffè al bar deve sempre specificare che caffè alto, basso, macchiato, schiumato, decaffeinato, zuccherato o no. Stessa cosa per il piede piatto, nel senso che ci sono tante definizioni ma non ce n'è ancora una univoca. E quindi questo rende difficile per la comunità scientifica anche avere un atteggiamento univoca nel trattamento oltre che nella definizione. Però principalmente noi utilizziamo quella più comune cioè il fatto che ci sia una componente del piede che sta in pronazione per un tempo molto prolungato del cammino, del passo. In pronazione significa quindi proprio appoggiato, scivolato. All'interno del pavimento appunto, col contatto col pavimento. È una condizione che spaventa tanto i genitori e che fa appunto richiedere molte consulenze ortopediche sin dalla prima infanzia. È importante ricordare che il piede è piatto per definizione sino almeno tre anni di vita ed è dovuto alla maggiore persistenza di tessuto adiposo a livello della zona mediale del piede. Infatti ce lo permette una delle cose più belle, prendere in mano il piede di un bambinone e toccarlo e rendersi conto che è così morbido, pieno, che... Certo, ma non è un problema. Come non è un problema se dovesse rimanere piatto senza essere accompagnato da disturbi. Mi piace fare l'esempio che Pelé, Bolt e i più grandi maratonisti olimpionici hanno il piede piatto. Quindi quando diventa un problema? Quando il piede piatto è accompagnato da disturbi. Vuol dire dolore, dolore al piede o comunque difficoltà a camminare o affaticabilità prolungata durante appunto brevi tratti di cammino. Allora in quel caso è assolutamente necessaria una valutazione ortopedica che ci permetterà poi di cercare di trovare la soluzione più adeguata che può essere per un periodo limitatissimo nel tempo l'introduzione di un plantare per mettere a riposo il piede. Quindi la funzione del plantare è quella non di correggere la forma del piede ma di mettere a riposo la muscolatura. Invece fare ricorso alla fisioterapia per rinforzare i muscoli cavizzanti del piede e tenere la componente ligamentosa ben lunga e strecciata. Infine ha ricorso al trattamento chirurgico tra i 9, 10 anni, 12, 13 anni di vita quando persistono disturbi e appunto la conformazione del piede è questa. Quindi anche la fisioterapia comunque può essere una scienza applicabile anche ai bambini in casi come questi. Allora la fisioterapia ha un ruolo di accompagnamento nel senso che molto spesso piedi in cui vi è una corretta lunghezza tendinea e vi è un piede forte non pur avendo questa conformazione non lamentano disturbi e quindi in quel caso è assolutamente di ausilio ma non è risolutiva così come non lo è il plantare. Ma per i genitori che molto spesso come sappiamo sono molto attenti su quello che succede ai loro figli magari non sanno neanche bene qual è il momento giusto in caso di piccoli campanelli d'alarme per approcciare l'ortopedico pediatrico. Allora per ciò che riguarda le problematiche del piede come il piede piatto consiglio dopo i 7 anni di età non prima a meno che appunto il bambino non lamenti disturbo e per ciò che riguarda le altre condizioni ovviamente è molto importante il ruolo del pediatra che funge da giusto consigliere per i genitori cercando di valutare i bambini che meritano appunto un approfondimento da quelli che invece non hanno aspetti che si discostano da quello che è la normalità. Chiaramente poi un medico pediatra e a tutti gli effetti un ortopedico pediatra deve avere anche un grande empatia con i bambini deve piacere ai bambini e i bambini devono piacere al medico. È sicuramente il suo caso dottoressa. Io sono una grandissima fan della popolazione pediatrica che favorisco molto spesso agli adulti. Spero di piacere loro così come loro piacciono a me e credo che sia fondamentale rivolgersi a loro sempre in maniera diretta quindi non fingendo che non siano presenti negli ambulatori ma rivolgendosi sempre prima a loro chiedendo a loro il motivo perché sono venuti a trovarmi. Preferisco visitare o con camici colorati o in assenza di camice per cercare di creare un ambiente più confortevole. Mi piace dare dei piccoli presentini per rendere comunque l'esperienza non traumatica ma un ottimo ricordo nel caso in cui più ci sia necessità di rivedersi. Certo perché comunque l'approccio col camice bianco può in tanti essere quasi motivo di timore ovviamente trovando dalla parte del medico una persona che invece subito mette a proprio agio magari giustamente anche con un camice con... E le mie piccole fans, le mie assistenti in realtà sono. Esatto e tutto questo sicuramente concorre a creare un clima favorevole per i bambini. Dottoressa grazie davvero anche quest'anno è stata davvero molto molto esplicativa, molto puntuale su delle questioni interessantissime perché riguardano il futuro del nostro mondo. Grazie a voi, a presto. Ci vediamo lunedì prossimo, buona serata ancora su LoSini TV, un saluto a tutti. Grazie a voi, a presto. Grazie a voi, a presto.